Si dice che immagini come queste non c'entrano nulla con il calcio, ma ciò che è accaduto a Reggio Calabria, ad opera di alcuni tifosi del Trapani, che hanno deciso di aggredire un autista e creare seri danni ad un autobus, è da scrivere, come un altro, ennesimo episodio di violenza legato proprio al mondo del calcio. La condanna unanime, ci mancherebbe, è la base alla quale partire, ma non più sufficiente. Il tutto mentre cresce l'attesa per il derby del 26 novembre al Ceravolo. Di fronte ci saranno Catanzara e Cosenzi in un match che si pronuncia caldo sotto tanti punti di vista, ma che lo stesso direttore sportivo del Cosenza Gemmi ha definito una vera e propria occasione per la Calabria. Ci si augura possa essere così anche grazie a due squadre che stanno giocando un grande campionato. Il Cosenza intanto si prepara al match casalingo contro la Feral Pissalò. L'obiettivo non può che essere tornare al successo dopo la doppia trasferta Ligure, che ha fruttato un solo punto. Sotto processo è finito l'attacco, è probabile che Caserta ritorni all'undici che in molti si aspettavano anche sabato scorso con i ritorni di Calò, Tutino e Mazzocchi dal primo minuto. Si aspetta i tre punti caserti e si aspetta i tre punti tutto un ambiente che, come ha detto lo stesso Gemmi, deve crescere insieme alla squadra per ambire a un qualcosa di più. Per una volta invece si è parlato anche delle difficoltà incontrate all'attacco del Catanzaro, che è tornato da Como con una sconfitta e per la prima volta senza aver messo in mostro il gioco che ne ha contraddistinto questa prima parte di stagione. Per i giallorossi il match contro il Modena rappresenta un test importante anche per capire quelle che possono essere le reali ambizioni di una squadra che fino a questo momento ha stupito tutti. Vivarini pian piano sta inserendo i nuovi, ma molto probabilmente anche contro gli Emiliani si affiderà ad un undici composto prevalentemente da giocatori che da oltre un anno stanno lavorando con lui. L'inserimento dei nuovi però potrebbe garantire quel di più che passa da questa gara casalinga ma anche dalla prossima trasferta a Venezia.